L'attesa sta per finire, è stato diffuso il trailer della settima stagione di Game of Tron. La nuova stagione uscirà negli Stati Uniti il prossimo 16 luglio e verrà trasmessa in Italia su Sky Atlantic poche ore dopo la messa in onda in America. Chi siederà sul trono piambito. L'ultima speranza per la prossima stagione. Se non mettiamo i nostri amici e rimbiamo insieme, ci siamo morti. E poi non importa quale sceglione si siede sull'Iron Throne. La grande guerra è qui. 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 La grande guerra è qui.